Mi chiamo Giovanni Crovu, vengo dalla Sardegna, da Oristano precisamente. Perché sono venuto in Moldavia? Sono venuto in Moldavia perché non riuscivo a curarmi in Italia con i prezzi molto alti dai dentisti italiani. Tramite un amico mi ha proposto questa offerta per venire qui in Moldavia. Io ho fatto un preventivo, loro mi hanno scritto un prezzo e subito sono venuto qui in Moldavia. Mi sono trovato benissimo, ho trovato la clinica molto accogliente, pulita, molto igiene. con attrezzature d'avanguardia, proprio che neanche io mi aspettavo. Sono rimasto molto meravigliato dei dentisti, dei dottori molto umani. Io sono molto orgoglioso di essere venuto in Moldavia.